Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati a destra. Quante volte abbiamo sentito nei dibattiti politici leader nazionali dire che bisogna fermare la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero. In realtà la necessità di trattenere sul territorio i giovani, ma non soltanto, è una sfida che da decenni sta a cuore soprattutto agli amministratori degli enti locali. In molte regioni italiane, e Lazio non fa eccezione, l'andamento demografico, la fuga delle persone, soprattutto dai territori di provincia, rappresenta da sempre una minaccia che può addirittura mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa delle piccole comunità. Ma come si fa a invertire la rotta? Nei giorni scorsi un importante opinion leader del territorio ha rilanciato questa domanda, questa sfida, mandando una lettera a un quotidiano locale. Da qui partiamo per il tema di questa puntata di Extra, come sempre con la copertina a cura di Silvia Corsi e poi vi presento gli ospiti con cui andremo ad approfondire l'argomento di giornata. L'ultimo allarme riguarda la ciociaria. Se lo spopolamento è un problema di tutto il Lazio, qui rischia di assumere i contorni della vera e propria emergenza. Secondo gli esperti, nei prossimi dieci anni la provincia di Frosinone rischia di perdere 22.000 abitanti, che è il doppio del calo previsto a Viterbo, sette volte quello di Rieti e addirittura dieci volte di più rispetto al decremento stimato per il territorio pontino. Numeri che preoccupano soprattutto gli amministratori, costretti a programmare certo i servizi per la popolazione residente, ma di conseguenza anche le entrate fiscali. Le fluttuazioni demografiche non sono una novità. Se è vero che da sempre a determinare le rotte di ogni fenomeno migratorio in ambito nazionale c'è soprattutto la ricerca di un lavoro e di una migliore qualità della vita, i flussi da e verso Roma, dalle varie province della regione, si sono riproposti ciclicamente, ma il trend negli ultimi anni è diventato sempre più marcato. La capitale o i comuni dell'Interland esercitano di per sé molti fattori attrattivi. Qui c'è il lavoro o le opportunità maggiori per chi deve fare business. Qui, almeno in teoria, ci sono più servizi e più competenze e visto che alla fine la qualità dei trasporti pubblici nel Lazio non è ottimale, molti preferiscono fare le valigie e trasferirsi direttamente nel circondario romano. Viceversa, c'è chi vuole privilegiare la dimensione più tranquilla della provincia, magari perché qui ha le sue radici e qui comunque può sviluppare i propri interessi economici, ma deve vivere in un contesto dove i servizi siano garantiti e dove ci siano opportunità lavorative. Ecco perché i sindaci, ma anche le associazioni di categoria dei territori periferici, da tempo si battono per garantire servizi essenziali, come per esempio le scuole ma anche i negozi, fino al mantenimento sul territorio delle attività produttive. Una sfida per la sopravvivenza che però rischia di essere inutile quando si cerca di trattenere i più giovani, senza i quali ogni centro abitato, borgo di campagna o città che sia, rischia l'estinzione. Allora, come mantenere vive le province della nostra regione è un tema davvero delicato, di cui però poco si parla, tant'è vero che poche ore fa, sulle colonne di Lattina Oggi, che è un importante quotidiano del territorio, Leonardo Valle, che è a capo del consorzio Cetegus, ha lanciato una sfida alla politica. Vogliamo iniziare a parlare seriamente di questi temi? Con noi c'è proprio Leonardo Valle. Buonasera e bentornato a Estra. Buonasera, buonasera a tutti voi e agli ascoltatori. Grazie per la disponibilità. In studio c'è anche, stiamo parlando di temi economici, il nostro esperto di riferimento, Marco Cassinis. Bentornato. Buonasera Claudio, buonasera al Presidente Valle e a chi ci sta seguendo. Presidente, come le è venuta l'idea di rompere il silenzio su questo tema, proprio in questo momento, e tra l'altro in modo così plateale, una lettera al direttore di un quotidiano locale per dire attenzione, perché si parla tanto di progresso, di sfide, si parla tanto anche di PNRR, ma bisogna seriamente dare un progetto a un territorio. Abbiamo sintetizzato troppo il suo pensiero? Ci siamo. Allora, innanzitutto questo è un momento topico. Tra meno di un mese, più o meno un mese, ci sarà il rinnovo del Consiglio regionale, quindi ci sarà un rinnovo di classe dirigente. I temi però che vedo nel dibattito politico, ahimè, sono distanti dalla realtà. E quindi c'è il rischio anche di vanificare questa tornata elettorale, parlando di temi distanti e comunque non al centro e non prioritari, e rischiando invece di non affrontare quelle che sono le gravissime priorità sui nostri territori. Molti auspicano un cambio di classe dirigente. La prima domanda che mi sono posto è questa. Se non siamo stati a venire sui nostri territori, quale sarà la nuova classe dirigente? Con chi? Su chi semineremo il futuro delle nostre classi dirigenti? E quindi è nata una riflessione, una riflessione che evidentemente poi il direttore di questo importante quotidiano ha accolto e ha dato spazio e ci sono state anche una serie di reazioni, perché ecco, dobbiamo iniziare, e quindi vi ringrazio per l'invito di questa sera, a parlare dei veri temi. Direi che iniziare a parlare del futuro dei nostri figli potrebbe essere un tema interessante. Fondamentale proprio per la sopravvivenza anche di questo territorio, delle sue tradizioni, anche del tessuto economico. Ecco, il fatto che sia proprio chi come lei è portavoce di un insieme di aziende che su quel territorio operano magari da anni, li investono, li garantiscono occupazione e dunque benessere economico per l'intero territorio. Ecco, credo che sia un messaggio importante, no? Spesso agli imprenditori si dice dovete fare voi l'economia, dovete fare voi lo sviluppo di un territorio, però se anche la controparte pubblica non collabora, si può fare, si rischia davvero di fare poca strada. Assolutamente sì. Vi do gli ultimi dati. Allora, innanzitutto l'Italia è tornata a essere un paese di emigranti. Cioè l'emigrazione supera di molto l'immigrazione nel nostro paese. E se sommiamo questo dato al fatto che abbiamo le natalità più basse della storia del nostro paese, questo diventa un mix micidiale. Se poi queste giovani generazioni, dove noi ci investiamo molto, quindi li facciamo studiare, li erudiamo, eccetera, e non creiamo occasioni di lavoro e di approfondimento di studio di alto livello sul nostro territorio, e quindi i nostri talenti migliori, appena vengono formati a nostre spese, vanno a popolare le economie di altri territori e di altre nazioni, Questa è una vera sconfitta della nostra classe di vicenda. Questa è una grandissima priorità. Non ci può essere nessun tipo di futuro serio per i nostri territori se non ci sono investimenti seri sulle nuove generazioni. Investimenti sul capitale umano, investimenti anche sulle potenzialità che le nuove tecnologie possono offrire. Questo so che è un tema che sta molto a cuore agli imprenditori che fanno capo al vostro consorzio. Dottor Cassini, se è così strategico investire anche sulle potenzialità del nuovo digitale, delle nuove tecnologie, di cui spesso i politici si riempiono la bocca, ma davvero possono fare la differenza? La domanda è piuttosto centrata, ma credo che ancora prima io debba riconoscere al Presidente Valle di aver posto la questione in una maniera corretta, ma anche lei ha centrato quindi Michalizio da vari punti di vista, nel senso che si chiede alle imprese di fare alcune cose, probabilmente Valle come consulente, come uomo di impresa, di business, come uomo che sta sul tessuto di un territorio e dell'impresa abbia colto tutta una serie di cose che lui stesso forse ha già portato avanti da anni e da tempo, perché come Presidente di Cetecus ha probabilmente chiaro quelle che sono le istanze delle imprese, come uomo di consulenza abbia chiaro quello che i giovani e i territori possono sviluppare e probabilmente io credo che il suo intervento vada a cogliere il punto o lo spunto di una cosiddetta tempesta perfetta, ovvero la scuola e la formazione in chi direzione stanno andando, il mondo dell'impresa che cosa necessita e che cosa non sta avendo dalla parte della scuola e della formazione in genere, ma ancor più coloro che potrebbero essere dei catalizzatori di determinate istanze che se non sono le imprese certamente devono essere anche gli interlocutori politici e correttamente mi pare che più o meno certi temi siano assenti dal dibattito, perlomeno a livello, devo dire, di Lazio come regione, lo dico da persona che ha sotto la lente anche un po' tutta l'Italia, mi pare che a livello nazionale certi temi vengono toccati e magari più avanti ne andremo a scorrere un attimo le specificazioni, però in questi territori mi sembra che il dibattito langua. Devo dire effettivamente che il tema dell'innovazione, della digitalizzazione dei giovani adeguati ai nuovi processi chiamiamoli 4.0, all'incrocio con i temi dei finanziamenti del PNRR, le Smart Cities, tutte queste cose, probabilmente temi cari al Presidente Valle e a molti che fanno un'innovazione, un'impresa di frontiera, attualmente non ci siano. Ecco, in realtà è vero, quando si parla di sviluppo e di progresso, pensiamo, avete citato i fondi del PNRR, no? immediatamente si dice investiamoli in nuove infrastrutture. Sia chiaro, è fondamentale garantire la viabilità, la mobilità, gli ospedali. Purtroppo ce ne stiamo accorgendo da tanti anni a questa parte. Il problema è che oggi il dibattito sembra essere soltanto su costruiamo l'autostrada. Non è che in realtà le idee che servirebbero sono altre, Presidente Valle? Faccio degli esempi. Il servizio di introduzione a questo bellissimo dibattito è accolto in segno. Ci sono le province del Lazio che si stanno spopolando, soprattutto di giovani, e fondamentalmente qual è il dibattito di questa campagna elettorale? Dei conservatori e dei progressisti, d'estra, sinistra, centro, non è, e non c'è differenza purtroppo, il dibattito è 20 anni di dibattito sulla nuova Roma Latina, sulla Cisena del Montone, sulle infrastrutture. E questo che cosa fa capire? Fa capire due cose. Innanzitutto la politica, per esempio regionale, non si occupa delle proprie competenze. Se si fa un'infrastruttura di una certa dimensione in Italia, lo decide il governo. Tant'è che ci sono, è il governo che può dare risorse, o interviene direttamente a seconda di qual è l'infrastruttura, per determinare un certo tipo di investimento. Quindi ci sono consiglieri comunali, provinciali, candidati alle varie assise locali, che parlano di competenze che non hanno, e di responsabilità dei rispetto ai quali non sono investiti. E omettono invece di parlare di una serie di competenze, che invece hanno, per esempio, possono attuare sui loro territori, borse di studi, dottorati, piani di ricerca e sviluppo, open innovation, cioè possono mettere insieme aziende diverse su specifici piani di ricerca e sviluppo. Possono, diciamo così, agevolare o collaborare con le imprese per offrire non spazi, come se i nostri laureati fossero scappati di casa, ma opportunità. Cioè, dialogare in modo costante col mondo dell'impresa, affinché chi sta per terminare il corso di studi, e il corso di studi a livello di prima o seconda laurea, e offrire degli atterraggi di qualità, se ne va dai nostri territori e ad alta scolarizzazione. Se ne vanno dai nostri territori perché stanno finendo il loro percorso di studi, magari anche universitario, e non hanno il dottorato di ricerca, non hanno possibilità di fare tesi di un corso di veri. Ecco, questo è ciò che si dovrebbe sentire a livello locale, a livello di una regione, di una provincia, di un comune. Cioè, politiche che sono nelle loro competenze. Si parla invece di politiche nazionali o di competenze vaghe e si perde l'occasione invece di investire in modo serio. Faccio un altro esempio. Un dottorato di ricerca. Presidente, le chiedo una cortesia, mi perdoni. Io devo lanciare la pubblicità perché per fortuna ne abbiamo e dobbiamo rispettare gli accordi con i nostri clienti. Se lei è d'accordo, da qui ripartiamo tra un attimo. Tenga il colpo in canna perché con lei vorrei provare a capire come mai gli amministratori non facciano quello che dovrebbero fare. Cioè, amministrare e immaginare il futuro di un territorio. Ma tra un attimo ne parliamo. Restate con noi. Bentornati a Estra. In questa puntata stiamo cercando, pensate voi, di risolvere un annoso problema. Quello di evitare lo spopolamento dei nostri territori che è una sfida che sta molto a cuore agli amministratori locali per di capire che man mano si sale nei livelli decisionali della politica perda di importanza anche perché vorrebbe dire affrontare questo problema provare anche a immaginare il futuro di un territorio come Lazio come le province della nostra regione. In questo caso abbiamo colto lo spunto che ci offre Leonardo Valle che è il presidente di Cetecus. A lui sta a cuore in modo particolare il settore, la provincia di Latina. Ma in realtà questa è una sfida che riguarda davvero anche tutti gli altri territori della nostra regione. Ecco, lei stava dicendo, facciamo degli esempi concreti, no? Di come si può mettere in un circuito virtuoso la sensibilità e gli strumenti della politica con le opportunità che il territorio stesso può offrire. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi cinque anni centinaia di bandi, per lo più da pochi migliaia di euro a pioggia sugli argomenti più disperati come politica regionale nel Lazio, no? Non abbiamo avuto una politica di dialogo col mondo delle imprese per attivare direttamente dottorati, ricerca, sviluppo ambienti dove si possono fare tesi, sperimentali o percorsi di approfondimento. Questo che cosa significa? Significa che quando un giovane di vent'anni sta alla fine del primo ciclo universitario, no? E con tanto sacrifici sta raggiungendo un obiettivo, un preguardo inizia a guardarsi intorno non trova vere opportunità per mettere a frutto i tuoi sacrifici e allora cosa fa? Estende facilmente, con i mezzi attuali facilmente la ricerca e trova le opportunità per fare un dottorato, per fare una ricerca e sviluppo per sperimentare per trovare altri di qualità eccellente e di talento come lui, no? Dove li trova? Spesso li trova in Europa, fuori dall'Italia e quindi non pensare in modo specifico a soluzioni alla nostra portata porta a questo risultato ma anche il mondo delle imprese ci sono imprese, faccio un esempio che chiudono i bilanci con 200, 300, 400 mila Euro di utile bene, perché sono imprese che pagano le tasse domanda quanto hai speso in dottorati o in ricerca o in quanti giovani hai accolto nella tua impresa? Spesso la risposta è nessuna cioè si preferisce pagare una tassazione molto alta a fine anno e non accendere, non diciamo così di creare opportunità di tutto vero della propria impresa attraverso l'ingresso di alcuni giovani all'interno della proposta manca una cultura perché c'è un grande dogma che dobbiamo togliere assolutamente i giovani sono il nostro futuro no! i giovani sono il nostro presente vi do un dato il picco massimo dell'innovazione negli Stati Uniti è dai 14 ai 24 anni in Europa dai 16 ai 26 no? quindi questo primo dato ci fa capire una cosa che i giovani sono il nostro presente cioè se noi vogliamo veramente cogliere l'occasione della quarta rivoluzione industriale dobbiamo capire che il capitale umano più prezioso sono i millennials sono i coloro i quali possono interpretare il digitale fondamentalmente ma anche il metaverso che sta entrando in modo serio nelle nostre vite e le intelligenze artificiali in modo semplice e veloce quindi dire i giovani sono il nostro futuro come fa spesso la politica significa non occuparmi adesso non pormi adesso il problema di quale occasione per il lavoro vero ma non è il lavoro maturo i giovani sono come degli atleti vanno allenati vanno creati dei percorsi per il quale questo talento entri gradualmente nel mondo del lavoro e avvenga su piani innovativi sulle nuove tecnologie sui percorsi dove quel talento mi diventano nuovi servizi nuovi brand mi diventa futuro per l'impresa che li ospita questa mancanza di consapevolezza che i giovani sono il nostro presente e non il nostro futuro ha portato una deresponsabilizzazione sull'oggi di questa problematica e quindi siccome spesso la classe politica e quella genziale è mediocre il mediocre decide di non decidere e cosa fa per decidere di non decidere? parla del luogo comune sa che da vent'anni la Roma Latina la Puntina è una delle strade peggiori d'Italia e della storia di questo paese che dice per me la priorità è la Roma Latina cioè dice una cosa ovvia per riempire uno spazio di comunicazione ma sa benissimo che se si fa questa strada si fa per una decisione del governo e non certo per il consigliere provinciale piuttosto che regionale piuttosto che comunale mentre quella classe dirigente potrebbe parlare con 100 imprese su quel territorio e portarsi a casa 10 dottorati all'anno 10 dottorati all'anno fanno 100 dottorati nel decennio significa 100 dottorati in un decennio su un territorio cambiano cambiano la classe dirigente su quel territorio perché significa che quel territorio nel tempo ha mantenuto una classe dirigente di altissimo livello che tende a cambiare lo status quo dell'economia togliendo l'occasione della quarta rivoluzione industriale cosa sta avvenendo? sta avvenendo se voi ci fate caso che le classi dirigenti prima avevano 60 anni poi ne avevano 65 adesso ne hanno 70 75 di media che cosa significa? significa che le nuove generazioni non stanno diventando classi dirigenti perché le nuove generazioni non stanno diventando classi dirigenti nel Lazio ma anche è un fenomeno diffuso in tutta Italia ma nelle province del Lazio veramente drammatico perché? perché non rimangono su quei territori quindi non possono diventare nuova classe dirigente perché sono classi dirigente di territori fuori dalla regione e molto spesso fuori dall'Italia se voi vedete le classi dirigenti delle fingers in Europa nei board nei cda di queste aziende trovate sempre 1-2 italiani quelli sono i nostri giovani che dopo anni diventano top level in Europa in modo di usare e che noi ci siamo persi per strada le faccio fare una domanda da Cassinis che seguiva con molto interesse questa sua analisi no beh il quesito volendo è abbastanza semplice nel senso che vale a livello di consulenza di esperienze lavorative certamente conosce l'Italia se non ovviamente anche l'estero perché esperienze sui mercati americani eccetera piuttosto che anche per ultime operazioni che ho seguito anche sulla parte asiatica o cosa ma l'Italia è un po' il nostro focus in questo caso ma anche per quanto mi riguarda mi è parso di vedere che il Lazio non sia così attivo e rispondente su tante questioni del mondo di impresa o di business e Latina che magari Valle come presidente di Cetecus può avere nel suo obiettivo di focus manageriale e imprenditoriale mi sembra più o meno nella stessa situazione non so se lui sia riuscito a darsi una spiegazione del perché sia le imprese che poi la politica su questi territori del Lazio e di Latina magari in particolare non siano così attive nel tradurre quello che lui ha lanciato come grido d'allarme perché se noi prendiamo per esempio le start up innovative ci sono una serie di defiscalizzazioni di situazioni tali per cui uno potrebbe portare a utile poi l'investimento nel capitale umano nei giovani emergenti c'è una ragione particolare perché Latina per quello che ho visto ma noi abbiamo avuto Michalizio lei aveva avuto anche ospite il presidente della provincia di Latina Gerardo Stefanelli ed erano usciti degli spunti interessanti cioè come mai alla fine un territorio che ha delle nicchie certamente valide dal punto di vista delle imprese in certi settori come la parte dell'agricoltura alcune cose della meccanica io ho avuto modo di conoscere anche tra i soci Cetecus delle eccellenze veramente che lavorano non sul territorio italiano ma proprio in tutto il mondo in svariati settori come mai le imprese non sono sul pezzo come si suol dire perché dalla politica mi posso sorprendere relativamente ma dal mondo delle imprese mi aspetto sempre qualche cosa in più ci sono diverse risposte la prima è un po' la più grave noi pensiamo sempre che la mediocrazia cioè mettere persone inadeguate per appartenenza politica perché sono della mia squadra perché sono del mio gruppo eccetera in posizioni chiave sia diciamo così una scelta che fa la politica sul pubblico in realtà la mediocrazia negli ultimi anni ha occupato posti di rilievo sia nel pubblico ma anche nel privato questo che cosa significa? significa c'ho mio fratello mio cugino una persona che conosco all'interno dell'organizzazione lo metto a cavo del marketing ma magari quello non ha gli skills per essere nel marketing che cosa significa? che dopo 5-6 anni quell'azienda è fuori mercato perché non ha fatto ha occupato una casella di marketing ma non ha fatto una politica di marketing e quindi paga la conseguenza di aver messo la persona sbagliata nel posto sbagliato questa diciamo così realtà c'è sempre stata nella nostra economia che cosa è avvenuto con la quarta rivoluzione industriale? che lo scotto che paghi nel non essere veloce e non nel non essere snello nel non saper cogliere le nuove tecnologie ti porta più velocemente fuori mercato quindi mentre prima una condotta diciamo così non perfetta all'interno di un'impresa comunque non comprometteva quella che era la performance dell'impresa nel suo settore di riferimento oggi con il costo delle materie prime con la velocità con la quale le tecnologie cambiano all'interno delle imprese se tu non sei allenato e perfetto e se non hai tutti gli uomini al posto giusto con le giuste con i giusti skills con le giuste capacità professionali rischi di andare fuori i mercati rischi di perdere la competizione anche perché le piccole e medie imprese non possono più essere rive se lavorano solo nel Lazio o in Italia ma devono accettare la competizione internazionale e quindi talmente questo problema c'è sempre stato latente nelle nostre imprese oggi lo scotto che è più alto rispetto a prima diciamo che un tempo presidente con la mediocrità si poteva comunque provare a galleggiare oggi è talmente imprevedibile e rischia di essere mi perdoni l'espressione rocelloso tempestoso il mare che del del affare soprattutto degli scenari internazionali che si rischia di essere travolti se non si è dei bravi timonieri con le competenze giuste e qui torniamo sulla necessità di formare le nuove generazioni di offrire delle possibilità di crescita formativa e naturalmente di dare loro delle opportunità sul territorio io la devo salutare perché il tempo a nostra disposizione è terminato però ecco io spero davvero che questo suo spunto lanciato attraverso le cronache di un giornale abbia acceso il dibattito sul territorio di Latina ma perché no di tutta questa regione posto che davvero tra poche settimane saremo chiamati a decretare chi sarà il nuovo governatore il nuovo presidente e forse sarebbe auspicabile che in questa campagna elettorale si andasse oltre agli slogan oltre alle proposte Leonardo Valle grazie davvero per i minuti che ci ha dedicato questa sera buon lavoro a lei naturalmente a tutti gli imprenditori di Cetegus grazie 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 naturalmente a lei grazie naturalmente anche a Marco Cassinis speriamo che questi spunti seminino lasciando delle opportunità di crescita e di rilancio di questa regione continuiamo a sperare ma cerchiamo di tradurre la speranza in atti e gesti pratici eh lo so e chissà che qualche spunto non l'abbiamo offerto anche noi in questa nostra parte di trasmissione adesso c'è la pubblicità e poi tra un attimo come sempre a Estra voltiamo pagina restate con noi bentornati a Estra di tutte le forme di violenza quella sessuale è probabilmente eh la più drammatica eh la più vigliacca una piaga che molto spesso si verifica anche entro le mura di ambienti che dovrebbero essere eh vicini in qualche modo legati talvolta anche da un affetto parentale per le vittime ma spavolta queste violenze possono anche avvenire per esempio nel luogo di una strada o di una piazza e molto spesso per le donne che eh sono costrette a viaggiare magari anche in orari poco affollati anche riuscire a attraversare eh uno spazio pubblico può rappresentare motivo di forte tensione partendo da queste analisi ormai da qualche anno c'è un'associazione si chiama donne per strada che cerca di offrire supporto e servizi concreti contro la piaga della violenza di genere noi oggi ne parliamo con una delle fondatrici Beatrice Antonelli che è anche responsabile del team legale di donne per strada buonasera e benvenuta a Estra buonasera grazie grazie di averci dato insomma l'opportunità di poter raccontare della nostra associazione la vostra è una storia molto importante una storia anche in continua crescita in continua evoluzione e questo già ci dà l'idea della vostra bravura ma purtroppo anche di come ci fosse bisogno di una realtà come la vostra intanto da quanto tempo siete operative? noi ormai a marzo sono due anni che abbiamo dato il via il via al tutto diciamo è iniziato a torno a marzo appunto di quasi due anni fa l'idea è partita da Laura Di Lettis che è la creatrice del progetto di donne per strada che poi è diventata appunto un'associazione e l'idea è nata proprio con diciamo l'ennesimo caso di femminicidio il caso specifico stiamo parlando di Sara Everard questa è stato un femminicidio che è accaduto a Londra la ragazza stava tornando a casa tra l'altro seguono tutti quelli che sono i consigli che ci vengono talvolta indicati e ricordati di far finta di stare al telefono piuttosto che attraversare state illuminate anche veramente in chiamata quindi di non restare sole o comunque in zone poco sicure illuminate eccetera Sara aveva seguito tutti questi tutti i consigli che ho appena detto eppure questo non è non è stato sufficiente Sara è stata assuprata e poi uccisa proprio in strada quindi Laura dopo questo inesimo caso che era uno diciamo di tanti che se ne sentivano ha deciso di fare qualcosa di concreto e così è nato proprio il progetto di donne a prestrada con il servizio di video accompagnamento che ad oggi diciamo è diventato sempre su una pagina Instagram ma su viola welcome siamo sempre noi semplicemente la richiesta del servizio era così importante che è arrivato anche diciamo a livello europeo e quindi di conseguenza ci siamo dovute anche ingrandire e arrivare appunto anche fuori l'Italia questo è già un primo servizio che voi avete iniziato a offrire tra l'altro incontrando purtroppo mi viene da aggiungere ogni volta forte richiesta di adesione proprio perché avevate capito che c'era questa esigenza come funziona se una persona si sente insicura vuole avere una forma di tutela prenota questa videochiamata come è che è il meccanismo si si preparato preparato bene si fa questo si iscrive a Viola Volcom ripeto per il servizio di video accompagnamento Viola che è il profilo Instagram appunto che si chiama Viola Volcom e semplicemente si prenoterà una diretta chiedendo appunto ad esempio che alle 9 di quella sera si percorrerà quella determinata strada quindi chiediamo anche l'indirizzo sia di partenza che di arrivo questo perché dovesse esserci bisogno nel caso di necessità possiamo noi intervenire e chiamare il 112 che appunto saprà in che zona è localizzata la persona e potrà intervenire in modo più diciamo più celere possibile e quindi è questo i nostri volontari sono di è un servizio è un servizio questo in ottica preventiva stava a San Dier ma è soprattutto un servizio che voglio dire si è evoluto nel tempo perché immagino lo stesse dicendo prima che io maldestramente la interrompessi voi avete dovuto anche formare delle figure che poi sono gli operatori in grado di ricevere le chiamate e di gestire anche eventuali situazioni di emergenza un qualcosa che non si improvvisa evidentemente assolutamente diciamo che i nostri volontari appunto sono 24 ore su 24 a disposizione e sicuramente c'è una selezione prima di diventare volontari non richiediamo chissà che ci teniamo a precisare chissà che diciamo curriculum ovviamente per diventare volontari però sicuramente controlliamo che questa persona sappia gestire quella che può iniziare come una semplice chiamata la maggior parte di tutte le nostre dirette sono chiacchierate sono chiacchierate di compagnia si diventano anche amici spesso diciamo ci sono persone che da tempo richiedono dirette magari quel giorno della settimana fisso perché sa che si deve percorrere quel determinato tratto e ormai si è anche entrati in confidenza però ovviamente non è sempre una chiacchierata nel senso che può accadere c'è la possibilità che diventi una situazione più seria quindi ovviamente la volontaria il volontario deve essere pronto a sapere intervenire in caso di bisogno mantenere il sacco e freddo e fare tutti quelli che sono le tips ovviamente che noi lasciamo prima di iniziare il volontariato per sapere intervenire nella maniera più giusta e corretta possibile il vostro progetto però lo diceva anche lei si è evoluto nel tempo e voi adesso state lanciando un ulteriore step un ulteriore fase che è molto ambiziosa e che porta questo tipo di assistenza da un luogo virtuale come quello chiaramente dove vivono queste videochiamate a un ruolo fisico vi avete chiamati i punti viola sono dei locali pubblici dove in caso di necessità la donna sa che può trovare soccorso come è nata questa idea e in che cosa poi si concretizza fisicamente? Allora l'idea è nata che faceva parte del progetto d'oggi diciamo si è vincolata però resta per motivi lavorativi però l'idea di Creta Martinez è nata con appunto l'intento e un po' lo stesso motivo per cui è nata il servizio delle dirette diciamo di videoaccompagnamento è far sentire la donna sicura in strada ma soprattutto rendere magari possibile quello che purtroppo visto le che sono le vicende infatti a volte impossibile o comunque magari quella donna che rinuncia ad andare in qualche luogo perché si sente poco sicura in strada al punto viola ha quella stessa idea ha quello stesso obiettivo cioè rendere far sentire la donna più sicura noi facciamo sempre un esempio nei momenti in cui una donna sa che il personale di quel determinato locale facciamo ad esempio un ristorante o un pub notturno sa che il personale è formato perché in caso di bisogno sappia intervenire per poter aiutare la persona che cosa fa? Magari ultimamente diciamo le app di incontri sono spopolati vengono molto utili però la donna a volte ha anche paura di incontrare una persona che non l'ha mai visto prima allora magari che cosa fa? Si opta per decidere di andarci a prendere qualcosa da avere con questa persona che non si conosce però è un punto viola perché io so che se la persona non mi dovesse convincere oppure dovesse fare qualcosa di un inopportuno che non mi faccia sentire al mio agio sicuro io posso chiedere aiuto c'è qualcuno che sa intervenire e che è formato da un'associazione come la nostra che appunto donne per strada per saper intervenire la formazione diciamo di punti viola avviene anche sia dal punto di vista legale che dal punto di vista psicologico quindi tutto il personale di punti viola sa sia come fare a livello psicologico e quindi come approcciarsi alla vittima ma anche a livello legale quali sono i consigli più utili che possono servire alla persona la vostra missione in questo momento è aumentare la rete dei punti viola avrete visto mentre la nostra ospite stava spiegando come è nato questo servizio una cartina dell'Italia i punti viola evidenziati erano le città dove questo tipo di servizio è già iniziato poi capiamo anche come intendete estendervi però dottoressa Antonelli mi interesserebbe in modo particolare capire su Roma e sul Lazio quante attività quanti punti viola avete già attivato allora noi esattamente proprio a livello attivo che quindi entreranno sul campo diciamo sarà da febbraio quindi adesso siamo in formazione e stiamo concludendo la formazione dei primi 50 quindi proprio nei momenti in cui si riconoscerà il punto viola dal bollino e quelli che sono poi proprio fuori il locale sarà da febbraio comunque Roma e Lazio perché è anche dove siamo noi principalmente perché noi siamo confondati ci siamo su tutto il territorio ma principalmente gli 5 di noi che fanno parte del direttivo sono su Roma quindi sicuramente i contatti e il poter far passaparola del progetto è stato molto più facile su Roma ce ne saranno diversi quasi 20 solo su Roma e ovviamente però le adizioni sono ancora aperte e basta andare sul sito come avete fatto vedere benissimo prima e basterà compilare il questionario che veramente ruba 3 minuti indicare appunto l'attività eccetera e noi vi ricontatteremo quali tipi di attività possono diventare dei punti viola tutte l'unico diciamo punto essenziale è che si mette a contatto con il pubblico facendo un esempio dei punti viola che abbiamo già formato siamo passati dalle farmacie ai ristoranti pub ma anche sexy shop anche negozi di abbigliamento ovviamente l'importante è che si è a contatto con il pubblico questo perché la persona possa chiedere aiuto nel momento del bisogno e quindi avere subito il contatto diretto con il personale l'adesione è molto semplice la regia ci sta facendo vedere anche questo questionario che serve ovviamente a chi poi di donne per strada avrà il compito di selezionare le attività anche ad avere un'idea di quali tipi di utenza li frequentano abitualmente gli orari di apertura eccetera e poi tutto diventerà una rete di luoghi sicuri sia per essere un approdo in caso di necessità se c'è bisogno di entrare in un luogo perché come dire non si è sicuri magari ci sentiamo seguiti da qualcuno che non ci piace o siamo in una strada particolarmente buia sia perché come diceva la nostra ospite magari come luogo del primo incontro si preferisce un ambiente di tipo protetto nelle altre zone del Lazio quali città avranno a breve un punto viola? Diciamo che zone principalmente stiamo su Roma ancora le candidature che sono arrivate in Lazio sono su Roma qualcosa a Latina è arrivata però speriamo di poter ricevere maggiormente adesioni anche fuori Roma quindi per quello diciamo stiamo cercando di far parlare ancora di più dell'iniziativa perché vorremmo questo qualcosa anche ostia però ancora siamo troppo fermi su Roma invece è importante poterci diciamo spostare anche fuori la capitale insomma assolutamente ovviamente ovviamente le adesioni possono arrivare da tutta Italia la nostra emittente noi trasmettiamo da Roma il nostro pubblico ci segue in modo particolare dal Lazio però talvolta questo programma va in replica anche in giro per l'Italia poi c'è il web che ha battuto un po' tutte le barriere geografiche quindi chiunque volesse aderire a questo progetto molto interessante un modo davvero concreto di essere utili di aiutarsi l'un l'altro contro una piaga drammatica quella della violenza di genere che per fortuna è diventata tema anche di dibattito politico in questo paese da qualche anno a questa parte è aumentata la sensibilità però attenzione come sempre non bastano le parole bisogna anche fare azioni concrete e questo può essere una barriera preventiva davvero molto utile come fare allora per rintracciarvi vogliamo ricordare qualche coordinata può bastare anche il sito internet che noi abbiamo già sfogliato in questi minuti il sito donne per strada basta cercare google proprio scrivere donne per strada e il primo link che esce da risultato è proprio il nostro sito c'è la nostra pagina instagram che è donne per strada su linkedin siamo su facebook twitter su ogni tipo di social noi ci siamo ed è facilissimo trovarci e allora in bocca al lupo per questo bel progetto davvero una bella iniziativa che parte da roma ma che idealmente può diventare un appiglio sicuro in tutta italia al servizio ovviamente delle donne per un aiuto concreto contro la piaga della violenza di genere la violenza sessuale che noi sappiamo essere una delle sfide anche dal punto di vista culturale questo paese deve riuscire a vincere entro breve Beatrice Antonelli grazie per essere stata con noi buon lavoro a tutti voi di Donne per strada grazie e allora grazie alla nostra ospite e grazie anche a voi che ci avete seguito adesso gli altri programmi della rete noi torniamo se volete con Estra domani alla solita ora buon proseguimento Extra tutti i colori dell'attualità con Claudio Micalizio